Signore e signori bentornati in questo video, andiamo a parlare di quel calciomercato che c'è stato ieri E allora, bentornati, bentornati, bentornati Bentornati in questo video, parliamo del calciomercato di ieri Successivamente uscirà un video riguardante Roma-Milan Perché non avevo parlato ieri sera di Roma-Milan? L'ho vista assolutamente sì Ma avevo la stessa del fantacalcio Quindi, ragazzi, abbiamo fatto la stessa del fantacalcio Vi assicuro che vi porterebbe il video del fanta Quest'anno ho fatto due fantacalci, uno a 10, uno molto più shield, a 6 Ieri sera vi dico solo che ho preso i giocatori mostruosi Ma comunque parliamo di classe all'Inter e di Luka Jovic al Milan Partiamo proprio da quest'ultimo Posso dire, allora, Luka Jovic, non so se mi convince Allora, il prezzo, io non ho capito se è un prestito secco Perché avevo letto che è un prestito secco Però poi vado a vedere Wikipedia e mi esce che è a titolo definitivo Vado a vedere Transfer Market e mi dice che è a titolo definitivo Strano Allora, Luka Jovic, se vogliamo essere sinceri, è stato un flop pazzesco Perché ha fatto una stagione grandissima all'Interact Un po' di anni fa, o neanche un paio, 4-5 anni fa Se non sbaglio, è proprio quella in cui erano arrivati in semifinale di Europa League contro l'Inter E, o in quartiera Comunque, fece una stagione pazzesca Venne acquistato per 60, 70, no, 80 forse milioni Da Real Madrid, da Real Madrid, da sempre fatto cacare Successivamente fu mandato di nuovo un po' Era stato mandato al Benfica, un po' anche all'Intract All'Intract e al Benfica, se non sbaglio, fece bene Comunque, alla fine, è chiusa la faccenda Chiusi i prestiti, andò a titolo gratuito Più il 50% sulla rivendita Alla Fiorentina la scorsa stagione Io non mi ricordo come ne parlai Mi sembra che ne parlai come un grande acquisto Ma Luka Jovic, l'ho presi anche al Fanta Calcio Mi ha fatto cagare per... In questa stagione, ha fatto veramente schifo Nella stagione 22-23 Concludendo, se non sbaglio, con un 5 gol Che comunque è una cifra irrisoria Se permettete, più o meno Non irrisoria, però comunque è poco Rispetto a quello che ci saremo aspettati Poi è arrivato, se non sbaglio, Artur Cabral Se non sbaglio, non c'era Artur Cabral è arrivato e ha fatto decisamente meglio Per quanto abbia mai fatto benissimo Però comunque, Luka Jovic, un vero fallimento E adesso va al Milan A fare la riserva di Olivier Giroud Allora, cioè, secondo me è veramente Il prestito secco ci può stranare Perché poi lo restituisce alla Fiorentina Ma che te ne fai oggettivamente? Secondo me non è il profilo proprio ideale Perché non ne butta dentro una Cioè, il problema è quello Secondo me l'Inter, il Milan, scusate Avrebbe fatto meglio a spendere di meno Magari per Ciuquese Il primo esempio Perché secondo me Ciuquese è veramente inutile In questa squadra Non ci trovo veramente il senso E prende un attaccante migliore come riserva Che poi, tendenzialmente, avresti anche Okafor Cioè, Okafor Alla fine l'ha preso il Milan Ma gioca No, Okafor per ora ha fatto due partite in croce Tutte ha subentrato No, Okafor giocherà Certo, hai tre competizioni Perché hai anche la Coppa Italia Comunque, mettiamo due competizioni importantissime Come Champions e Campionato E quindi il Champions, soprattutto vedendo il Il girone che hanno Probabilmente riposerà di più giro in campionato Cioè, secondo me Non lo so, ragazzi Non è un colpo sensato, Okafor No, Okafor Giocherà come punto Giocherà come esterno E anche come esterno Che te ne fai? Non ne capisco il motivo Onestamente, Okafor Se fosse a prestito secco O a titolo gratuito In generale Sarebbe un 7 Perché comunque Non paghi un cazzo In caso Forse anche prestito secco Sarebbe meglio Perché gli do un 7 più Al prestito secco Perché in caso torna Subito alla Fiorentina Mentre invece Se è titolo gratuito Comunque gli do 7 Perché non paghi niente Però Luka Iovic Non è il profilo ideale Cioè Io avrei preso Daniele Brogna O Luca Campolunghi Saluto a questi due Ma comunque Non è il profilo ideale Però Devo dire una cosa La mossa Di Vokorighi Mandato via Bravo Bravi Comunque questa cosa L'attaccante È stata veramente Una trattativa estenuante Questo è di Taremi Taremi Io infatti Leggevo tutti Bel colpo Taremi Ma non è chiuso E io Immaginavo un pochino Questa cosa Che magari Non si chiudesse subito E Che cazzo è successo La Ferrari È una prova di partenza Mi sto anche guardando L'FP di Monza Però comunque Taremi Buon colpo Sarebbe stato Un ottimo colpo Iovic invece Non è assolutato Di Taremi Di Don 7 Taremi Sarebbe stato ottimo Però Non lo so ragazzi Vedremo Il tempo ci dirà Iovic per me Non giocherà neanche tanto Anzi Due partite a grosso Comunque Passiamo al secondo acquisto Più importante Secondo me Di questo Di questa Deadline Day Ovvero Quella ragazzi Di Classen all'Inter Classen Che arriva così Di botto Senza senso Già la notte prima Si era parlato Di un Di un interessamento Da parte dell'Inter Per uno Tra Classen e Donny van de Beek Però Allora È un buon colpo È un ottimo colpo Anzi È un voto 8 Ma non perché È Classen Ma è un voto 8 A prescindere Perché lo prendi a zero E voglio fare Una parentesi Per Congratularvi Tra virgolette All'Ajax Che decide Di lasciare Diciamo anche Come riconoscimento Classen Letteralmente a zero Sapevamo che Sarebbe andato via A fine stagione E quindi decido Di anticipare Un attimo di tempi E lasciarlo Però a zero Non farlo pagare Comunque È proprio Un atto di Buona volontà Secondo me Col giocatore Poi non lo so A me non sembra Che ci siano mai Stati scherzi Quindi dubito Che sia il giocatore Che ha detto Vendetemi a zero O mi svincolo Non lo so Comunque Classen È un colpaccio Ma perché è un colpaccio Ha 30 anni Ok Non è operazione Rigiovanente Uno può dire Sì ok Ma che cazzo Te ne fai di Classen Avevi già Sesi Hai sensi Sì Ma prendi Un giocatore Differente È un giocatore Differente Vessi No Questo è Classen Ha delle caratteristiche Differente A tutti gli altri Centrocapisti Perché c'erano Oglue Era un trequartista E adesso è un mediano Aslani È un medianino Mediano Sì Anche se Aslani Secondo me Andrebbe mandato in prestito Barella È un centrocampista Però comunque Con tanti gol Che ti fa Tanti gol A stagione Mkhitaryan Un'ala Diventata centrocampista Grande tecnica Solo che non ha più La velocità Sensi Un giocatore Che quando sta bene È forte Però Nelle occasioni più importanti Non è proprio decisivo Poi ne manca uno Frattesi Per il futuro E anche questo centrocampo Può fare bene Secondo me L'Inter Ha veramente C'è Ce l'aveva prima Adesso con Classen Ancora di più Al centrocampo Uno dei centrocampi Secondo me Top 5 Miglio di Europa Ma Classen Perché è stato preso E non Donny Van De Beek Uno Perché Classen È più una certezza Perché Donny Van De Beek Sarebbe stata più una scommessa E io avrei preferito Puntare i su sensi Lo prendi a zero Ma Ha le caratteristiche Al trequartista Se vai a vedere Le sue partite Ha fatto le metà Le sue partite Al trequartiste Metà da centrocampista Centrale Secondo me È veramente una carta Molto importante Questa di Classen Che si potrà riferare Ottima A stagione in corso Certo Io onestamente Avrei rinforzato Un pochino di più La difesa Perché ok tutto Ma Hai già Aslani Sensi E Fratesi per la panchina O vuoi metterci Mkhitaryan Al posto di Fratesi Mettici Mkhitaryan Al posto che prendere Classen Io avrei preso Un altro difensore centrale Perché hai bastoni Jan Bissek Sidarmian Si Acerbi Si devrai Per un altro Difensore centrale Magari sempre Sulla falsa riga Di Acerbi Diciamo L'avrei preferito Classen Ma comunque Un voto 8 Perché continui A avere delle alternative Fantastiche Nel centrocampo Scusate Veramente un grande colpo Secondo me Questo di Classen Chiudo un attimo Non verrà neanche messo Sul titolo Esclusiva Per voi che siete rimasti Fino alla fine Sam Castiglieco Che torna In Serie A Al suo suolo 250.000 euro Di prestito Più un diritto Di riscatto O obbligo Se non sbaglio A un milione Se non sbaglio Tutto se non sbaglio Comunque A buon colpo Per il Sassuolo Un colpo Diciamo alla Sassuolo Vedremo se riusciranno A valorizzarlo Comunque io vi saluto Spero vi siano piaciute Le mie opinioni Iscrivete anche le vostre Io vi lascio Ci vediamo domani Con prossimi Ah domani Dopo Con prossimi video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti